Ma si può diventare multimilionari da dipendente? Nel private equity puoi farcela. È una delle carriere dove si guadagna di più in assoluto, tanto che si può arrivare a guadagnare fino a decine di milioni di euro l'anno, una delle più selettive al mondo. Quello però di cui non si parla mai è com'è la vita in private equity, come si fa ad entrarci e quanto si guadagna anche da giovani. E oggi noi lo scopriremo con Piero Leporelli, che è Principal di BC Partners, uno dei fondi di private equity più importanti al mondo. Senti, per iniziare raccontaci che cos'è effettivamente il private equity. Il nostro lavoro è raccogliere soldi da tutta una serie di investitori, investire questi soldi in aziende private, quindi aziende non quotate in borsa, di cui prendiamo il controllo per 4-5 anni. Alla fine di questo periodo le dobbiamo rivendere con l'obiettivo, come minimo, di raddoppiare il valore dell'investimento. Come minimo, di raddoppiare. Tendenzialmente, sì. Ok, ma quindi come funziona nel concreto il modello di business del private equity? Sono fondi che investono in aziende non quotate, già grandi e strutturate, ma soprattutto con ancora tanto potenziale in espresso. L'obiettivo quindi diventa acquisire, scalare e poi rivendere l'azienda. Ed oltre a metterci soldi, fanno tutto il necessario per farla crescere, questa azienda, il più velocemente possibile. Quindi nuove acquisizioni, espansioni, nuovi mercati, nuovi prodotti, nuovo management, con l'obiettivo finale di arrivare alla exit. Quindi farla quotare in borsa oppure rivenderla. Raccontaci intanto cosa hai studiato per poi entrare in VC Partners e come sei effettivamente entrato in private equity. Certo. Per entrare in private equity alla fine ci sono due strade principali. Quella della banca d'affari, investment banking, e quella della consulenza strategica. Ovvero, di fatto te non entri in private equity dopo l'università. Fai un paio d'anni di esperienza lavorativa seguendo una di queste due strade. Ma esattamente cosa vuol dire consulenza strategica e investment banking? Allora, l'investment banking si occupa di dare supporto alle aziende in operazioni di finanza straordinaria, come ad esempio fusioni acquisizioni e IPO, quindi le quotazioni in borsa. La consulenza strategica invece si occupa di affiancare grandi aziende per risolvere i loro problemi più complessi, come ad esempio l'ingresso in un nuovo mercato o il lancio di un nuovo prodotto. E raga, se vi interessano l'investment banking e la consulenza strategica trovate sul nostro canale due episodi ad hoc con Riccardo Mulone di UBS e Rosalina Chen di McKinsey. Io ho preso la strada della consulenza strategica. Partendo dall'inizio, io ho studiato alla triennale ingegnere aerospaziale alla Sapienza di Roma. Dopo la triennale sono andato a Londra e ho studiato un master in management alla London School of Economics. Ho passato tre anni in McKinsey e all'interno dei tre anni ho fatto anche un intervallo in cui sono andato a fare un MBA alla Columbia University di New York. Complimenti. Ho anche fatto un annetto in sud-est asiatico in cui ho lavorato per una start-up. Dopo questo intervallo sono tornato in McKinsey verso la fine del 2018 ho detto ok, io non voglio fare il consulente nella vita voglio andare in private equity. Mi sono messo a cercare, nel giro di poco ho incontrato Busy Partners ho avuto un fit culturale di pensiero sugli investimenti immediato mi sono trovato molto bene e mi sono unito a loro. Adesso sono da cinque anni in Busy Partners sono principal, copro i settori consumer e TMT e faccio investimenti un po' in tutta Europa ma anche molto in Italia. Ma a proposito di McKinsey dopo aver fatto quel percorso lì immagino che comunque anche se non c'è l'entry level avrei dovuto subire un percorso di selezione per entrare in private equity. Certo. Com'è stato? I percorsi di selezione in private equity sono sempre molto lunghi e piuttosto rigidi. Immaginati che per ogni posizione in cui un fondo assume magari ci saranno 30 persone, 40 persone tutte per un singolo posto. Per entrare in BC avevo fatto una decina di colloqui incontri quasi tutte le persone del fondo e anche un case study scritto in cui ti testano sulla tua capacità di valutare un investimento. Ti ricordi più o meno com'era questo case study? Ti danno 30-40 pagine e ti dicono ok nel giro di tre ore dimmi cosa pensi di questa azienda fammi delle proiezioni, fammi un modellino Excel in cui mi stimi che ritorni potremmo fare che prezzo potremmo pagare un po' ti provano a far fare il lavoro dell'investitore in tre ore, quello che noi facciamo in giorni e mesi. I colloqui sono tutti colloqui di un'oretta in cui vieni testato sul tuo giudizio commerciale quindi molto spesso si discute di investimenti si testano anche sulle componenti più tecniche, finanziarie e poi c'è una componente non indifferente di fit culturale nel senso che ogni fondo ha la sua cultura sono aziende relativamente piccole magari 30 investitori passi talmente tanto tempo con le persone che devi trovartici bene. Come ti sei preparato per superare poi queste prove? Secondo me la cosa chiave è di non pensare di potercela fare da soli leggendosi un libro devi cercare di parlare con più persone possibili che ci sono già passate per cui io ricordo che in quel periodo avevo fatto decine di telefonate con amici, ex colleghi, conoscenti ma anche persone che non conoscevo a cui facevo reach out direttamente su LinkedIn Quindi coffee chat o guardare questo video Ho fatto molta ricerca sia sulle tematiche diciamo tecniche su cui per esempio tutto quello che avevo studiato dall'MBA aiutava tantissimo però c'è anche molto materiale online sia sulle tematiche più specifiche del fondo per cui io in quel periodo su Busy Partners avevo imparato tutto Sì ci stavi già lavorando in realtà Ti studi tutte le aziende in cui hanno investito cerchi di capire qual è la filosofia di investimento perché poi devi trovarti in un posto in cui il modo in cui tu pensi agli investimenti è lo stesso in cui pensano anche a loro Ok, Piero ci sta dicendo che devi conoscere molto bene il fondo ed essere però molto forte sulla parte tecnica ma in che senso? Beh, devi studiarti molto bene queste cose come valutare un'azienda tramite multipli e DCF i modelli finanziari come si analizza un bilancio quali sono gli strumenti di debito come funziona un IPO e poi ovviamente cosa succede nel mondo a livello macroeconomico Ok, ma quanto si guadagna in private equity? Come diceva Piero è molto difficile entrare da neolaureati tanto che chi riesce a entrare arriva con qualche anno di esperienza o dall'investment banking o dalla consulenza strategica ma poi quando si entra quanto si guadagna effettivamente? Quando tu entri soprattutto dalla banca d'affari tendenzialmente nel primo passaggio possiamo aspettarci che il tipo di remunerazione che vai a ottenere è abbastanza simile forse sale di un 10-20% quello che diventa interessante è come evolve la cosa nel tempo nel senso che la struttura della remunerazione della private equity è quasi sempre è fatta di uno stipendio base un bonus viene pagato una volta all'anno e di solito è pari almeno al 100% o forse di più del tuo stipendio base quindi immaginati che più di metà del tuo stipendio ti arriva tutto in un giorno è lì che è un giorno un giorno bellissimo chissà cosa si fa è quel giorno ma poi quello che arriva un po' più nel lungo termine che però è forse la cosa che fa la differenza di una carriera in private equity è il carried interest ok adesso facciamo finalmente chiarezza su stipendio e progressione di carriera in private equity come dice Piero si guadagna uno stipendio base un bonus e il carried interest ma esattamente cos'è il carried interest? se un fondo di private equity acquisisce un'azienda per 100 e poi dopo 5 anni la rivende a 200 si farà una plusvalenza di 100 il 20% verrà poi diviso tra tutti i membri del team e si parla di cifre anche molto alte ovviamente più si sale e più aumenta la componente di carried tanto che può arrivare ad essere anche un multiplo molto alto del resto dello stipendio quando diventi partner diventi comproprietario del fondo la vita diventa piuttosto piacevole mi è rimasto impresso che dici che uno dei motivi per cui sei entrato in private equity è che è veramente un lavoro molto stimolante molto strategico che proprio ti piace fare raccontaci la settimana tipo tua da principal in busy partners non quella quando ricevi il bonus anche se sarebbe interessante sapere però forse un po' atipica se fossero tutte le settimane ti piace talmente tanto che non smetteressi comunque busy partners è un fondo abbastanza grande noi gestiamo 40 miliardi di asset il nostro lavoro è quindi investire questi soldi se devo descrivere non tanto la mia giornata tipo ma come spendo i miei mesi sono sempre divisi fra tre grandi attività la prima è l'attività di origination ovvero di cercare nuove opportunità di investimento noi abbiamo un approccio settoriale tematico per cui io che copro i settori consumer e tmt passo molto tempo a cercare di sviluppare competenze verticali su questi settori come lo faccio parlo con tanta gente che ne sa più di me cerco senior manager che abbiano esperienza decennale in un certo settore ci faccio una chiacchierata parlo con i consulenti che ne sanno spesso tantissimo di tante cose e cerco vari altri esperti con cui faccio tante chiacchierate che non so nel settore degli ingredienti c'è una nicchia particolare che trovo interessante un'altra cosa che faccio all'interno del sourcing è parlare molto con le banche d'affari io ho vari contatti nelle banche d'affari che mi dicono guarda nei prossimi x mesi queste quattro società saranno in vendita cominci a studiartele così sei pronto a partecipare incontri anche imprenditori per discutere di varie operazioni e cose di questo genere la seconda fase che è quella poi secondo me più divertente in cui si impara di più è la fase del deal live in cui lavori la due diligence cosa si fa? immaginati che c'è un team di 4-5 persone di busy partners che inizia a lavorare su un'opportunità a studiarla molto nel dettaglio e in quel caso ci andiamo a circondare di un grande team di advisor che ci aiutano in questo lavoro prendiamo una banca di investimento una società di consulenza dei consulenti di contabilità dei consulenti fiscali legali a un certo punto si forma un team magari di 50 persone che tutti stanno lavorando insieme per cercare di portare a casa l'opportunità cercare di arrivare a fare un'offerta che venga accettata per comprarci la società noi in quel momento ci concentriamo molto soprattutto sulle dinamiche commerciali quindi insieme con i consulenti cerchiamo veramente di capire ok ma questa società mi piace ha la possibilità di raddoppiare le dimensioni o più nei prossimi anni e di solito c'è un processo che può variare da un mese due mesi tre mesi in cui studi e cerchi di capire tutto sul futuro di questa società per arrivare a prendere la tua decisione finale la terza componente del mio lavoro è quella della gestione del portafoglio nel senso che poi quando investi in una società tu per cinque anni devi fare in modo che poi cresca ora ovviamente l'attività di M&A è un'attività su cui molto spesso noi aiutiamo tanto le nostre aziende in portafoglio altra cosa che facciamo è cercare di rafforzare il team il management team se prendi una società che fa 20 milioni di EBITDA avrà un team di un certo tipo se la devi far diventare di 100 milioni avrai un team di un altro tipo infine con consulenti strategici che chiami per fare l'ottimizzazione delle operations ok ma che competenze servono esattamente per fare tutto questo la più importante in assoluto è avere un ottimo giudizio commerciale dopo tutto sei pagato eppure tanto per valutare gli investimenti la seconda è essere molto analitici e attenti ai dettagli le valutazioni si fanno con modelli quantitativi quindi raga saper usare bene Excel è assolutamente fondamentale la terza è scontata ma è fondamentale e sono le competenze interpersonali tutti i giorni devi avere a che fare con i CEO più importanti del mondo e li devi convincere che sei il partner migliore per la loro azienda per farlo devi saper parlare di tutto con tutti e invece la storia più incredibile che hai vissuto in questi anni di BC Partners su un deal una volta ho fatto un progetto nel settore dello sport in quel progetto avevamo deciso di lavorare con una banca d'affari boutique specializzata nel settore e si dà il caso che il cofondatore di quella società che poi era diventato quindi nostro advisor nel progetto era Gianluca Vialli che poi purtroppo poco più di un anno fa ci ha lasciato mi sono ritrovato da un momento all'altro ad avere su base settimanale delle telefonate in cui parlavamo con Gianluca di strategia per un investimento e devo dire che era una cosa che mai mi sarei aspettato e che rimane uno dei ricordi più belli della mia carriera ok questa di Vialli è sicuramente una storia pazzesca però prima parlavamo dell'obiettivo dei fondi di private equity che è quello di raddoppiare almeno il valore delle aziende in cui investono in circa 4-5 anni per questo abbiamo chiesto a Piero qual è stato il deal più assurdo che abbia mai gestito e quanto hanno guadagnato solo poche settimane fa abbiamo firmato un accordo per vendere una nostra portfolio company una società che noi avevamo comprato nel 2018 e a suo tempo faceva 24 milioni di EBITDA un centinaio di milioni di fatturato e aveva fai conto un centinaio di dipendenti in 5 anni nonostante 2 anni di covid noi abbiamo trasformato completamente la società facendo alcune acquisizioni molto strategiche e l'abbiamo fatta passare da una società che faceva un singolo prodotto praticamente solo un paese e un canale di distribuzione in una società che fa diversi prodotti diversi canali e diversi paesi la società nel 23 ha fatto 500 milioni di fatturato e 90 milioni di EBITDA più o meno quanti dipendenti? un miliaio altra cosa secondo me bella uno parla di private equity pensa che entri e tagli noi siamo passati da 100 a 1000 e la società che abbiamo comprato per un controvalore di 270 milioni l'abbiamo venduta di recente per un miliardo e uno mamma mia quando vai a firmare un accordo di questo genere guardi indietro e ti accorgi di aver fatto qualcosa di qualcosa di giusto l'hai fatto con il contributo del fondo ma ovviamente in primis con un lavoro eccezionale da parte di un team eccezionale veramente molto forte d'ora in poi ogni mese oltre agli imprenditori e dirigenti più importanti d'Italia vi facciamo scoprire le aziende più importanti e sexy del mondo come si fa ad entrarci come si lavora effettivamente lì dentro e quanto si guadagna quindi fateci sapere qui sotto nei commenti quali ruoli quale aziende e quali settori vi piacerebbe conoscere cheers